ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella perché faccio un video al giorno amico federico mi ha chiesto di parlare della kawasaki z750 r del 2011 l'idea di kawasaki era quella di partire dalla più grande z 1000 dalla quale sono state riprese poi le caratteristiche del motore ma con una cilindata più piccola per mettere sul mercato un modello più economico la z 750 è stata presentata in anteprima nel 2003 e commercializzata in europa nel partire dal 2004 dopo vari aggiustamenti del modello dal modello originale arriviamo quindi nel 2011 dove accanto alla z 750 standard kawasaki presenza appunto la versione r versione aggiornata in molte componenti come le sospensioni i freni questo allestimento si differenzia essenzialmente per la sospensione anteriore migliorata le pinze dei freni anteriori radiali con tubi in treccia metallica e il forcellone in alluminio termina poi la produzione del 2012 perché l'anno seguente viene sostituita dalla nuova z 800 quindi vediamo la moto in questa immagine che la rappresenta e andiamo a partendo dal motore vedere quale che sono le sue caratteristiche il motore un 4 cilindri linea la cilindrata di 748 centri metri cubici la distribuzione bialbero 4 valvoli per cilindro e raffreddamento liquido la potenza massima di 106 cavalli 10.500 giri al minuto e la coppia massima di 78 newton metro 8.300 giri al minuto il telaio formato da una struttura in acciaio mentre la sospensione anteriore fidata una forcella telescopica a steli rovesciati ben visibile nell'immagine da 41 mm regolabile nel precarico della molla dello smorzamento in estensione con l'escursione di 120 mm la selle alta 825 mm da terra al posteriore siamo in presenza del sistema unitrec con il monomotizzatore a gas col precarico della molla continuo così come lo smorzamento in estensione e l'escursione della ruota di 134 mm le ruote sono molto belle leggere e anche dal punto di vista estetico vorrei volevo dire questo sono 17 pollici in lega leggera all'anteriore come il posteriore passiamo poi all'impianto frenante vediamolo qui bene nell'immagine perché i freni sono doppio disco semi flottante a margherita da 300 mm con le pinze radiali 4 pistoncini mentre il disco singolo al posteriore è da 250 mm con la pinza al singolo pistoncino perfetto poi il serbatoio abbiamo finito perché il serbatoio è da 18,5 litri e il peso a secco di 226 kg se ti è piaciuto mettere il like se non ti è piaciuto un dislike per iscritti al canale e attiva la campanella primis in primis è gratis secondo faccio video al giorno se sempre aggiornata aggiornato sui contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata